Benvenuti cari cripto affezionati in questo nuovo video con un nuovo airdrop, se oggi ho un nuovo location, come vi ho detto non vi avrei lasciato neanche da soli queste settimane di agosto belle calde e quindi oggi andremo a toccare un argomento molto interessante per quanto riguarda la parte di base, quindi diciamo è un video aggiornamento quello di oggi perché andremo a farci airdroppare un NFT molto interessante e potenzialmente utile per quanto riguarda l'airdrop di base, che è dedicato a coloro che costruiscono su base. Quindi in questo caso andremo a deployare un contract in tutto e per tutto però su mainnet non su testnet, cambia diciamo un qualcosina e potenzialmente appunto utile per un potenziale airdrop. Bene quindi direi di non perdere tempo di passare subito a schermo e vedere cosa dobbiamo fare. Ci qua cripto affezionati per quanto riguarda il discorso dell'NFT di base perché come detto andremo ad utilizzare e dovremo per perlomeno per ricevere un NFT specifico su base per chi come vediamo da questa pagina Becama Base Genesis Builder. Quindi chi ha costruito o comunque creato anche un semplice comunque smart contract su base verrà ripagato appunto con questo NFT per i builder base. Ovviamente vi metterò tutto direttamente nella descrizione però questa è una cosa che stanno facendo in pochi a parte che non è molto discussa però ecco potrebbe essere un qualcosa e anche un vantaggio in più per il potenziale airdrop perché comunque in questo momento principalmente la mainnet è creata per chi sta costruendo e perciò ecco può essere un vantaggio in più. E questo ovviamente base ci darà varie specifiche poi successivamente. Non si sa quando finirà tra l'altro questa cosa quindi potrebbe finire oggi domani dopo domani. Perciò prima la facciamo meglio è ovviamente per salvarci un po' il discorso di questo NFT e quindi avere un vantaggio in più. Allora come prima cosa che cosa dovremmo fare? Dovremo andare prima di tutto su, anzi prima che su Bridge andiamo su Jchainlist che abbiamo utilizzato più e più volte per connettere le varie chain. In questo caso vi basterà cercare Base e vi si aprirà ovviamente quella che non è la testnet ma mainnet. Io ovviamente vi metterò sempre il link giù in descrizione così che ce lo avrete direttamente quindi vi basterà cliccarlo e vi comparirà subito questa pagina. Vi connettete, qua vi verrà scritto Add Wallet e una volta cliccato vi si aprirà il pop-up qua di fianco di Metamask con l'aggiunta della chain di Base. Una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo andare sul nostro grande vecchio amico di Orbiter che ormai ci ha fatto da utilizzatore e da aiutante con tantissimi Bridge. L'abbiamo utilizzato per Arbitrum, Scroll, Taiko, Linea, tutti quanti vieno male e adesso c'è Base. Tra l'altro ecco non è un caso che io abbia messo ZK Sync era su Base per il semplice fatto che è semplicemente una connessione, una movimentazione in più per quanto riguarda ZK Sync. Ricordiamoci che siamo comunque tutt'ora in attuale comunque farming di ZK Sync. Questo ci servirà poi quindi per fare due piccioni con una fava da ZK Sync su Base e poi possiamo ovviamente scambiarli viceversa. Oggi andremo a vedere come costruire comunque un contract su Base. Perciò ecco io vi dico, siccome è anche la mia prima volta in questo momento, vi direi di fare uno 0.01 Ethereum per sicurezza, poi eventualmente lo rispostate. Tra l'altro, altra cosa, il buon Orbiter ha lanciato una piccola campagna su Galaxy per il Bridge di Base. Siccome negli ultimi tempi c'è stato questo spostamento sulle shitcoin di Base, una in particolar modo che ha fatto comunque percentuali assurde, ecco hanno fatto questo collegamento. Insomma, un po' per hype sostanzialmente, però ecco qua noi andiamo a creare un qualcosa, un'interazione legata e finalizzata a un futuro AirDrop. Quindi una volta che voi farete questo, io personalmente attualmente ho fatto 0.01 Ethereum, quindi vediamo un po' poi chiederà di più o ci richiederà di meno. Io non penso che ci richiederà di più, ma per un semplice fatto è per un pagamento di fees. Siccome non so ancora esattamente come siano, per ogni evenienza ho preferito fare così. Quindi una volta che abbiamo fatto questo, ragazzi, dobbiamo andare sul nostro buon vecchio e caro Remix. Cosa dovremo fare su Remix? In questo caso dovremo andare su Create New File. In questo caso io scrivo SecBase, ok? Come semplicemente generico per il nostro buon base. E incollo questo contract, ok? Questo contract, ragazzi, mi serve per andare a pagare anche meno fees sul buon base. Quindi adesso questo è tutto quello che noi abbiamo e dobbiamo semplicemente applicarlo e trasformarlo poi realmente in contract. Quindi dobbiamo andare su Solidity Compiler. E in questo caso abbiamo quello selezionato 0818 più commit fine di 96 sostanzialmente. Cosa facciamo? Compile New SecBase. Quindi è stato compilato in tutto e per tutto. Dobbiamo andare sullo smart contract, ok? Ricordatevi, prima cosa di tutte è di andare su Metamask e ritrovarvi con la chain su Base. Non dovete essere su altre chain, altrimenti decada ovviamente tutto. Fatto questo, quindi assicurato che avete base su Metamask, andate qua sopra su Environment e selezionate Injected Provider Metamask. In questo caso andrete a cliccare Deploy. Eccolo qua. Vediamo un po' quanto ci chiede. Ci chiederà 2 dollari e 31, quindi ci siamo abbondantemente in questo momento sullo 001. Eccolo qua, che è arrivato ed è stato deployato il nostro contract con tutte le varie specifiche, col deposit e quant'altro. Che a noi in questo momento non ci interessa. Fatto questo, teniamolo da parte, tenete aperta questa pagina. Dovremmo andare su Base Scan. Dovremmo verificare semplicemente il nostro signature message. Quindi Metamask, io adesso in questo caso l'avevo già fatto, però lo faccio ancora. Faccio Uxet Base, ok? Quindi segni message. Pagherò, anzi no, non c'è niente da pagare. Ok, publish. Quindi pubblichiamo questo messaggio. Perfetto, message signature verified. Quindi è stato fatto, siamo a posto. Adesso dovremmo andare a verificare il nostro smart contract, sempre su Base Scan. Quindi eccoci qua, siamo su verify e publish contract source code. Quindi andiamo ad incollare, no scusate, ho sbagliato. Cancelliamo tutto, pensavo di averlo già copiato. Andiamo qua, ok? Copy il nostro contract. Ritorniamo su verified contract. Eccolo qua. Dovremmo andare a selezionare Solidity, single file, sempre. E selezionare il D96, come qua, su Remix. Ok? Adesso di qua non c'è, ma di qua sì. D96. Già che siamo qua, ragazzi, dobbiamo copiare tutto il nostro contract. Ok? Quindi abbiamo copiato il nostro contract. Torniamo su verify contract, quindi agree, continue. Ok? Abbiamo quindi il nostro contract, il compiler, la ottimizzazione. E abbiamo, eccolo qua. Qua dentro, enter the Solidity contract code below. Qua dobbiamo mettere il contract che abbiamo copiato. Ok? Questo qua, che abbiamo copiato qua. Molto semplice. Fatto quello, abbiamo praticamente già finito. Bene. Fatto questo, dobbiamo andare qua sotto. Non sono un robot. Ok? Prendiamo il nostro bel semaforo. Facciamo avanti. Bicicletta. Facciamo verify and publish. Eccolo qua. Ok? È avvenuto. Molto semplice, molto veloce. Avete compilato un contract su mainnet, quindi complimenti. Abbiamo compilato il single file, concatenato, eccetera, eccetera. Qua abbiamo tutto il nostro contract bytecode e il contract abi. Tenetelo ancora un attimo qua, eh. Tenetelo aperto. Perché? Allora, prima di tutto dovrete andare su Dune e farvi un account su Dune. Ok? Vi metto sempre sotto il link. È molto semplice. Mettete uno username, una mail, una password. Vi arriverà un codice che dovrete inserire. Poi successivamente qua, sub smart contract. Quindi vi viene in automatico successivamente che vi siete registrati. Qua cosa dovrete fare? Contract info, blockchain su base. Contract address. Ritorniamo sul nostro bel remix. Copiamo il nostro contract. Andiamo qua ed inseriamo il nostro contract. Facciamo next. In questo caso project name, yukseg base, che è quello come l'ho chiamato. Qua chiamiamo yuk smart contract sc. E l'abi ce lo legge già. Ok? In questo caso ce l'ha già letto. Incredibile. Pensavo non lo leggesse. Se non dovesse leggerlo comunque, ragazzi, non vi preoccupate. Andate in remix. Qua andate in compilation successful. E qua copiate abi. Ok? E lo incolate poi direttamente dove l'ho messo. Dune qua. Ok? In questo caso c'è già, quindi non c'è problema. Qua invalid formato. Devo metterlo tutto minuscolo. Ok? Quindi fate submit. Perfetto. Contratto inviato correttamente. In questo caso dovrete andare a vedere il contract. Quindi view contract. Eccolo qua. Yuk sc. E ce lo abbiamo. Ok? In questo caso è al momento in pending. Ce lo poi verificherà col tempo. Ci metterà un po', ma poi avremo completamente finito. Successivamente a questo, ragazzi, dovrete tornare, anzi tornare, andare, su builder base. Builder base, quello come dice, connect deployer wallet, verify contract, fill out the form. Noi andiamo avanti, quindi connettiamo il nostro wallet. Mettiamo il nostro buon metamask. Ci colleghiamo qua. Ok? Facciamo sign to verify. Quindi firmiamo. Facciamo sempre le solite controlli. Altra macchina. Verify. Perfetto. Perfetto. Vedete? Sono stati e comunque successivo e confermato sia la parte del wallet, quindi con list 007 base mainnet eth, must have deployer contract. Continuiamo. In questo caso dobbiamo dare il nostro contract. Quindi, ragazzi, ritorniamo di nuovo sul nostro remix. Copiamo il nostro wallet, anzi il nostro wallet, il nostro contract di quello che abbiamo lanciato come smart contract. Mi sono perso. Dove l'ho messo? Messo qua, eccolo qua. Quindi mettiamo dentro. Ok? Quindi, have you verified and published your contract source code on basis scan? Sì, l'abbiamo fatto. Have you submitted your smart contract? Ok. Su Dune, sì. In questo caso, website frontend link to publicity deploy and mainnet GA. In questo caso, mettete un po' quello che volete. Non c'è qualcosa di specifico. Io qua, ad esempio, metto il mio profilo Twitter. Metto questo qua. Ok. Poi, governance token, se applicabile non ci interessa. Dobbiamo provide your dApps wallet address for the NFT air drop. Quindi qua dobbiamo mettere il nostro wallet che servirà per ricevere il nostro NFT. Tra l'altro, your project Twitter, vabbè, non lo mettiamo. Mettiamo semplicemente sempre il nostro link Twitter. Qua sotto prendiamo il nostro wallet. Ovviamente, andiamo a copiarlo. Tra l'altro qua, choose which social you have. ENS. Enter your project. Vtab. Ma non abbiamo nessuno dei due. Non siamo obbligati a mettere questa cosa. Quindi mettiamo solo il nostro wallet. E scendiamo. Sono robot. Submit. Ok. Success. Eccolo qua. Ok. Siamo a posto. Quindi qua, se volete, fatevi un bel follow su Base. Così, almeno se vanno a controllare ce l'avete già e vi danno la direzione subito senza dover fare altri giri. Ma fatto questo, ragazzi, abbiamo finito. Quindi dovremo aspettare semplicemente il nostro caro e bellissimo NFT da builder su Base e sul nostro diretto wallet. I criptofezionati, anche per quanto riguarda la parte di deploy dei contract, sia su test rent che su mainnet, abbiamo, diciamo, il passo nei tempi giusti. Quindi quello che dobbiamo fare ora è semplicemente farlo il prima possibile se si vuole fare. Ovviamente, altrimenti, se non volete farlo, non fatelo. Non c'è nessuna clausola specifica che ci dice che questo passaggio è fondamentale. Ma come nessuno dei passaggi che facciamo, comunque sappiamo fin da subito se sono fondamentali o meno. Possiamo, diciamo, farci un'idea, una prospettiva di quello che possono essere e possono funzionare. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi specialmente i nuovi a Europa.